E' in atto un nuovo calo della pressione sulle zone centrosettentrionali della penisola, con sostenuto flusso umido da ovest-sud-ovest, destinato a persistere per gran parte della settimana. In Toscana, martedì 7 marzo, cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti a tratti più consistenti associati a precipitazioni sparse, più probabili sulle zone di nord-ovest. Quota neve in appennino intorno ai 1200-1400 metri, nubi più compatte in serata con precipitazioni più frequenti. Venti moderati sud-occidentali fino a forti sulla costa centrosettentrionale, mari agitate a nord dell'elba, mossi altrove, temperature quasi stazionarie e un lieve aumento nei valori massimi. Sul territorio provinciale cielo nuvoloso con possibili rovesci, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 6, massima 13 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane, minima 3, massima 10 gradi. A Via Reggio e sul litorale, minima 10, massima 14 gradi.